Vi facciamo la Coppa Italia quest'anno di nuovo nelle Marche grazie alla proposta di Monta Granaro. Volevo ringraziare la Lega perché siamo orgogliosi e siamo molto contenti di organizzare un evento di tale importanza. Ringrazio tutto lo staff della Lega Nazionale Palacanestro perché per me è veramente un onore essere qui oggi e essere la madrina di questa importantissima competizione per la ritorno di questi due magnifici trofei. Mi auguro veramente il mio sogno è che si torni a parlare di basket come 30 anni fa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.